Per preparare questo dolce vi serviranno latte condensato, fior di latte, 3 uova e cioccolato in polvere. Metti tutti gli ingredienti nel frullatore. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sbattere bene fino a quando l'impasto della torta al cioccolato sarà uniforme. Se finora ti è piaciuto, iscriverti a questo canale e mettere mi piace a questo video è molto importante per me! Grazie a tutti! Metti le caramelle in un contenitore. Mettere nel microonde per 10 minuti alla massima potenza. Riporre in frigorifero per 4 ore. E la vostra torta al cioccolato è pronta! Grazie a tutti! Raccontatemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa ricetta deliziosa e super facile da preparare? Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!